ciao ma hai fatto fare una fatica della misera arrivare qua e porca malora e adesso è peggio andare a casa poidia molto peggio come il gatto silvestro come il gatto silvestro porcaccia miseria e meno male che passano tutti i soldati qua soldati finti ma soldati che hanno fatto tutti questi cacchi di mezzi sentieri ci sono camminatoi quasi dappertutto hanno pulito un po' magari trovo la strada per ritornare a casa bagnato un po' tanto bagnato ma magari ce la faccio guarda che qua ce n'è un altro a lì mortacci sono un po' lontano dalla civiltà come si suol dire di qua c'è un camminatoio qua no qua si di qua un altro eccoci l'abbigliamento non era dei più indicati però per voi e per me quello è d'altro torniamo la so la strada forse se riescono a scivolare anche qua e la missione acqua e riflu continua tutte le ronge e le fognate dei leoni pieni di acqua una volta ogni tanto una volta ormai sempre cazzo mi pare a me c'è la scarliga ragazzi si ci sono le mie orme di prima che sono salita quindi sono sulla strada giusta sembra di essere diventato un indiano ma non dell'india quelli che seguono i cavalli vedi questa è una mia impronta questa è un'altra dai 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 che si arriva incredibile ma vero alla cascatella e ritorno a piedi no con il trial a piedi si sente il seveso questo è un bel sasso variegato direi però la cascata grande non vado giù mi spiace e magari più via fa andare fino alla assolutamente non ci penso neppure e oggi ho fatto ginnastica mi spiace per voi ma fino a là è troppo lunga mi spiace per voi ma fino a là è troppo lunga un pezzettino qua e basta qualcuno ha pensato di portarlo via e fare una lampada sicuramente ma poi ci ha rinunciato e la natura ha ributtato alla faccia sua non so stato io giuro lì c'è seruzza seruzza è troppo lunga è troppo lunga dite che ci provo? e se qua non riesco più salire ci ho fatto e con questa ciao a tutti esagerata